Buonasera amici italiani e come prima notizia abbiamo la Juventus che è pronta a spingere per il rinnovo di Matthijs De Ligt, direzione in scadenza del 2020. Stop! Kampos del Paris Saint Germain ovviamente ha proposto Neymar alla Juventus. Ma chi cazzo è questo coglio? No, invece la notizia è un'altra. Cristiano alla Juventus. Cristiano alla Juventus. Cristiano alla Juventus. Basta, basta, ci siamo. No, no, no! Ultimora adesso, ultimora. Ronaldo e Neymar alla Juventus. Vai, raccolta qualche strunzata. Che alla gente piace. Non ce la faccio. Jack! Come sapete, nell'ultima ora abbiamo questa notizia che ci arriva da Luca Monbrano in persona. Neymar e Ronaldo pronti ad atterrare a Torino. Tremate tifoserie napoletane, interiste, milaniste, romaniste, laziali, spezzine e chi più ne ha più ne metta. Cristiano Ronaldo e Neymar pronti ad atterrare a Torino nelle prossime ore. L'indiscrezione parte da sette giorni fa, dove Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus, ha un incontro casuale a Monte Carlo con Campos. Campos chi? Campos George? Portiere del Messico? Allora scrivetele le cose, scrivetele! Ma bisogna essere degli stronzi però, eh. Luis Campos, il direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha avuto questo incontro. Come vedete alle foto, se non ci credete, cosa significava questo incontro tra i due, come dire, colleghi di lavoro. Allenare il Paris Saint Germain? Ben sapete c'è un accordo che lega Massimiliano Allegri con la Juventus fino al 2025. Detto questo, c'è soltanto un'altra alternativa che poteva portare Campos e Allegri nello stesso posto, allo stesso momento, alla stessa ora. Comprare dei giocatori, ragazzi. Messi? No. Messi non è l'indiziato numero uno. Cerca un riscatto. Non può passare un altro anno in Ligan avendo fatto meno gol di Sacofofana, ex Udinese. Mbappé? Fresco di rinnovo. Pari a 100 milioni di euro la firma, 50 al cagnolino, 20 al gatto e 5 alle tartarughe. Ramos? No. I difensori ne abbiamo già di cani e gatti. Di Maria? Juve, Juve, Juve di Maria, anche il Juve! Fai un attimo un momento di interferenza. Donna Rumma? Magari ne riparleremo. Eccolo qua, ragazzi. Neymar. E a confermare ancora di più tale tesi, c'è la foto postata dal calciatore due giorni fa sul suo profilo Instagram. Il mezzo di comunicazione oggi dei giovani ragazzi e hanno conferma nei loro telefonini di aver visualizzato una foto che ritraeva proprio Neymar insieme al giocatore della Juventus, Artur Melo. Artur Melo sul piede di partenza. Ecco che l'acquisto di Neymar alla Juventus può ristabilire una delle più belle amicizie anche in Juventino e, perché no, l'apertura di Neymar alla Juventus. Passando in secondo piano, molto velocemente, la notizia di ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juve si spiega molto semplicemente dalla pace fatta con Allegri. Ronaldo non potrebbe accettare di trascorrere la sua prima annata fuori dalla Champions League. Avrebbe trovato l'accordo con Allegri perché ritrova in Dusan Blaovic il lottatore di sumo che farebbe la guerra al suo posto. L'unico nodo da risolvere, il guaio con Cassano. Ormai al potere della Bobo TV, l'ente televisivo più diffuso nel mondo e in Europa. Sarà dura per Cristiano? Vincerà Antonio o vincerà Ronaldo? Vedremo. Bello, eh? Bello. Sì, perché che sia un giornale, che sia una televisione, che sia un ente televisivo locale, quando mancano i nomi bisogna inventare un po' di stronzate, no? Bisogna far soprattutto scalpore. I nomi sono finiti, sono stati praticamente un centinaio accostati alla Juve e quindi cosa mancava alla lista se non il ritorno di Ronaldo? E Neymar? Non mancava più niente. Quindi benvenga Luca Momblano, benvenga un po' di ironia e benvenga la nostra amata disinformazione che tanto d'estate piace fare. Soprattutto ai ragazzini, che sono quelli che popolano di più il web, quelli che permettono a youtuber, influencer, e non solo di campare, di fare ascolti, soldi, visualizzazioni, condivisioni. Mi piace. Quindi, chi sono io per non poter sfruttare tutto questo a mio vantaggio e girare sul web queste notizie fake? Non sono nessuno. Io ci posso trarre qualsiasi tipo di guadagno da queste notizie. Ci faccio un video, domani magari mi sveglio e dico che dietro, chissà, il mal di pancia di Messi c'è la Juve sotto perché cerca un'alla destra in caso di nodi di Maria e quindi mi faccio quei soldini con quel video a fine mese, diciamo che arrotondo un pochino di più e se lo faccio continuamente fino al primo di settembre ho fatto il mio, anche perché sta gente che campa così, che fa dal primo settembre e bisogna parlare di calcio giocato dove siamo tutti alla pari dove si parla di partite si analizza tutti insieme una cosa e non c'è chi parla di più o chi parla di meno la partita la commenti perché c'è un evento che ha un inizio e ha una fine nella confusione, nella baraonda del circomercato il vostro circomercato ci traete vantaggio così perché siete liberi di scrivere ogni giorno qualsiasi nome qualsiasi cosa che possa essere verificata che non possa essere verificata e soprattutto sfruttate la vostra utenza che può essere e sicuramente, come in tutte le cose comprende e arriva e sfocia e rimbalza perché nei miei direct c'era panico totale per almeno il 50% delle persone che mi mandavano una notizia io quasi a dover spiegare loro di diffidare un po' da tutto quello che leggono ma è un argomento un po' vecchio però il fatto che ogni anno il web sputa via chi non ci sta più dietro si prende i nuovi arrivati i ragazzini e questi li metti in un circuito dove poi capisci no? che se cominci a instaurare con un ragazzo la discussione ma ne cosa ne pensi di ne ma... non esiste non esiste la discussione dove io posso parlare con voi seriamente di questi due giocatori dobbiamo parlare seriamente del contesto per il quale la Juventus ha sposato una linea ferrea dove stiamo cercando di rizzollare il terreno e scavare a fondo e cercare di avere una rosa dove il tetto massimo di ingaggio è quello che prenderà Pogba e attorno tutti gli altri fissato sui 10 milioni con tutti gli altri sotto su quelle cifre lì stiamo cercando di spalmare il monte ingaggi stiamo ricercando di ripartire dalla situazione che ancora ci siamo lasciati alle spalle da soltanto un anno fa quella del covid dove tagli di stipendi devono rientrare perché qualche giocatore si è ricuscito l'ingaggio per far spazio a questa politica al risparmio perché ci sono squadre che devono comunque fare degli utili perché in questi tempi sono stati chiusi gli stadi bisogna in qualche modo fare tutti un passo indietro lo ha fatto capire la società ci siamo resi conto che avere un giocatore che sputa in testa agli altri non ti porta a vincere niente ma anche solo parlare stare qui a far aumentare la durata di questo video di questi giocatori di queste trattative che poi come dire fatevele andare bene le altre che sono presenti in questo momento no? va bene creiamo la storiella che serve ad accompagnare l'attesa e il ripensamento di chi sicuramente ha la Juve come prima scelta o sbaglio Angel di che volevi andare alla Juve da appena ti hanno detto che ti cercavano che hai messo un giorno a dire di sì perché la Juve è la Juve ne riparleremo a breve e quindi cos'altro? volete il me comico o il me serio? da me non lo avrete mai il me serio a parlare di queste notizie lo sapete ci sono da fare delle analisi delle collocazioni ma il tridente ah quello deve giocare l'età il fatto ma la qualità ma meglio di Maria meglio Berardi di Neymar ma che cazzo stiamo dicendo? in che cosa perdiamo tempo? perché fino a una certa rimango il personaggio ci faccio la battuta perché fino lì rimane lì rimane una notizietta il problema è che quando provi a parare con queste persone a fargli capire a zì a canna sta notizia a cartocciola penso che le sappiate le fonti affidabili o quelle che bene o male non sono ricordate come personaggi che ogni tanto se ne escono con queste robe qua nel rispetto del personaggio nel rispetto della sua trasmissione seguita da tanti giuventini ma fami serie non giochiamo dai fa caldo davvero affambagnetto tranquilli che anche l'arriva quando inizia a ritirarsi la juventus con allegri a luglio e allora che arrivi oggi che arrivi per una settimana non cambia niente quell'altra arriva a luglio con molta calma ma con molta testa dai 5.000 mi piace per il prossimo tg vabbè chi c'è arrivato a questo punto del video commenti qui sotto con air tv mi piace mi piace